Buonasera e bentrovati a questa edizione ridotta del nostro telegiornale per consentire alle ore 20 e 45 la diretta dalla cattedrale di Prato dell'incontro del Vescovo Giovanni Nerbini con i direttori, i cantori ed i musicisti dei cori parrocchiali. L'obiettivo dell'incontro ha spiegato Monsignor Nerbini è quello di aiutare i tanti cori che animano le messe in parrocchia ad armonizzare il proprio repertorio alla liturgia. Per i particolari ci colleghiamo con Giacomo Cocchi. Buonasera. Buonasera dalla cattedrale di Prato alle 20 e 45 al termine dell'edizione del telegiornale che questa sera andrà in onda in forma ridotta. Trasmetteremo in diretta il secondo incontro del Vescovo Giovanni che ha voluto fare su TV Prato per raggiungere i pratesi in questo tempo di pandemia. In particolare l'incontro di stasera è rivolto ai cantori, ai direttori, ai musicisti, a tutti coloro che fanno parte dei cori parrocchiali. Il titolo del nostro incontro è La musica nella liturgia. Il Vescovo parlerà e darà delle indicazioni, ci sarà un contributo, un'intervista che abbiamo realizzato con Marco Frisina, il direttore del coro della Diocesi di Roma e poi ci sarà la possibilità per voi a casa di intervenire. Quindi vi ricordo il numero 331-1888-676 attraverso il quale potete scriverci via WhatsApp o SMS oppure potete anche seguire la nostra diretta che andrà in live streaming sulle pagine Facebook di TV Prato e della Diocesi di Prato e ovviamente potrete scrivere sotto la diretta nei commenti. Allora vi restituisco la linea e vi do appuntamento alle 20.45 qui dalla Cattedrale. Bene, grazie. Parliamo adesso di coronavirus. Scende a 50 il numero dei nuovi casi di positivi al covid a Prato e provincia, ma purtroppo si registrano nuove vittime per un totale di 310 decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria. A perdere la vita a causa del virus sono state una donna di 73 anni ed un uomo di 94 che erano ricoverati all'ospedale Santo Stefano. In Toscana nuovi contagi sono 857 su oltre 21.000 test eseguiti. Il dato è lievemente più alto di ieri, con un numero di test anch'esso più alto, ma è in frenata rispetto ai giorni precedenti. Il tasso percentuale di positivi è sostanzialmente stabile, poco più del 4%. 17 i nuovi decessi a livello regionale e continuano a crescere i ricoveri di pazienti covid negli ospedali toscani. 22 in più rispetto a ieri, 4 in terapia intensiva. Siamo ammirati dal lavoro che fa e saremo in apprensione, fiché non lo rivedremo in carne ed ossa. A parlare dal suo studio in centro storico è l'avvocato Paolo Leone, cugino di Rocco, il pratese scampato all'attentato in Congo. L'avvocato Leone riferisce di sapere che il cugino sta bene, ma di non sapere quando tornerà in Italia. Sentite l'intervista. Una famiglia ammirata dal lavoro di Rocco, anche se effettivamente la parte dei Leone residente a Prato negli ultimi anni ha avuto pochi contatti con quel cugino che dalla laurea in matematica è passato ad occuparsi degli ultimi in Africa per conto della FAO. A parlare l'avvocato Paolo Leone, cugino del pratese sopravvissuto all'agguato in Congo, in cui hanno trovato la morte l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustafà Milambo. Ho parlato con una cugina, con la sorella Maria Grazia che sta qui a Prato e quello che so non è nulla di nuovo rispetto a ieri, nel senso che sappiamo che Rocco è in buona salute, che è fermo, suppongo in ospedale per accertamenti e ci stiamo chiedendo quando è che ce lo rimandano a casa per salutarlo. La prensione c'è ancora finché non lo vediamo in carne ed ossa, non sappiamo, non è tornato con l'aereo che ha riportato la salva del povero ambasciatore, quindi o per motivi sanitari o per motivi di indagini sull'accaduto è trattenuto laggiù in Congo. L'avvocato Leone riferisce di aver appreso attraverso i media la notizia che il cugino si era trovato coinvolto nell'attentato in Congo in cui ha perso la vita l'ambasciatore Attanasio e che ad oggi non gli è stato detto dagli altri familiari presso i quali si è informato se c'è una data certa del ritorno di Rocco. Ieri è stata una data veramente di grande apprezzione, anche se nell'arco delle ore la cosa si è assunto dei contorni più precisi. Io sapevo che Rocco lavorava in Africa con la FAO ma non l'avevo mai associato a questo episodio dell'assassino del povero ambasciatore. Nella cerca dei parenti si sapeva che faceva un lavoro non facile, non un lavoro da scrivania come è capitato a altri suoi cugini o anche a me come vedete sono qui alla scrivania. Siamo stati sempre tutti molto contenti, anche ammirati di questa sua scelta non facile sicuramente. Approvato dall'Aggiunta Comunale l'elenco delle opere pubbliche è legato al bilancio di previsione 2021, previsti oltre 21 milioni di finanziamenti statali e regionali. Vediamo. Oltre 21 milioni di finanziamenti statali e regionali per 5 grandi opere pubbliche che doteranno la città di nuovi servizi. L'Aggiunta Comunale ha infatti approvato, su proposta degli assessori all'urbanistica Valerio Barberis e al bilancio Benedetta Squittieri, il piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023. Il documento dovrà poi essere discusso e votato in Consiglio Comunale. Questi progetti che attingeranno a fondi di finanziamento esterno per oltre 21 milioni di euro nel 2021. La piscina olimpionica di Iolo, l'ampliamento della scuola elementare media Pier Cironi di Viale della Repubblica, la palazzina della Polizia Municipale in Piazza dell'Università, il bando per la forestazione della regione toscana e l'efficientamento energetico delle scuole e di Palazzo Benassai. Il Comune di Prato invece impegnerà 2 milioni e 672 mila euro di risorse proprie per manutenzioni, cofinanziamenti e opere inderogabili. Per le opere di manutenzione saranno destinati anche i fondi recuperati dalle alienazioni per 1 milione e 535 mila euro. Saranno infine finanziati, tramite accensioni di mutui per oltre 2 milioni di euro, il recupero della Gualchiera di Coiano, il restauro dell'ex stalle di officina giovani, la realizzazione del terzo lotto del percorso ciclopedonale su via Firenze da Ponte Petrino, una serie di interventi di adeguamento sismico delle scuole e il primo tratto del collegamento viario tra via dell'Alberaccio a San Paolo e via Suor Nicolina. L'intervento della provincia di Prato per il nuovo liceo Copernico è stato ammesso al finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione. L'amministrazione provinciale si aggiudica così la cifra di oltre 4 milioni di euro per la realizzazione del nuovo edificio scolastico. Il progetto prevede la demolizione dell'attuale prefabbricato in Viale Borgoval Sugana che ospita l'ufficio scolastico provinciale e la succursale dello stesso liceo, al cui posto sorgerà una struttura tecnologica in cui troveranno posto 10 aule, 2 laboratori, una sala di lettura ed una comune. E adesso la pagina sportiva, il calcio, il Prato batte 3 a 1 il fanalino di coda a corticella nel turno infrasettimanale del campionato di serie D. Primo successo sulla panchina dei Lanieri per Fricarno, il servizio del nostro Massimiliano Masi. Il Prato torna a vincere. Nella seconda giornata di ritorno la compagine bianco-azzurra supera in casa per 3 a 1 il fanalino di coda a corticella. Primo tempo da incubo per il Prato con il corticella in vantaggio su calcio di rigore concesso per questo fallo di Fremura su Salvaterra. Dal dischetto Nanetti trafigge Nannelli, corticella avanti per 1 a 0. La replica del Prato cozza sul palo, Tavano su punizione, è preciso ma sfortunato. Nella ripresa il Prato riesce a ribaltare la partita. Il pareggio della compagine Laniera arriva grazie al guizzo di Minardi. È 1 a 1. La rete del pareggio accende il Prato e spegge il fanalino corticella. Raddoppio bianco-azzurro con Tavano con un preciso fendente dall'interno dell'area di rigore. È 2 a 1. Il Prato cala il tris e chiude il confronto grazie al perentorio stacco di testa di Uottara. Nel finale generoso forcing del corticella che beneficia del secondo calcio di rigore di giornata. Fallo in area di Spinosa su Nanetti. Dal dischetto la battuta di Gransdani viene neutralizzata dal portiere Nannelli. Finisce 3 a 1 per il Prato che torna a vincere e a risalire in classifica. Se pensiamo ad un incidente immaginiamo subito un'auto o una moto, insomma una strada. Ed invece in Europa le vittime degli infortuni domestici sono tre volte di più di quelle degli incidenti stradali. Se ne è parlato ieri sera a In Salute, la trasmissione di medicina e benessere a cura di Marilena Chiti, ospite il dottor Stefano Bassi, tecnico di prevenzione della ASL Toscana Centro. La prima causa di incidente è proprio la bassa percezione del rischio domestico che ognuno di noi ha ovviamente in casa propria. La propria casa è considerata la casa più sicura ed è per questo che viene abbassata la soglia di attenzione e la soglia anche di valutazione del rischio. Questo ovviamente provoca disattenzione e provocando ovviamente disattenzione il rischio di incorrere incidente domestico è molto più alto. Dovremmo pensare anche alla casa secondo chi la abita? Dico dove ci sono bambini piuttosto che anziani per esempio? Indubbiamente questo è un aspetto fondamentale. La casa deve seguire l'età evolutiva e i bisogni delle persone che la abitano. L'esempio è quello, mentre ad un bambino piccolo è necessario alcuni materiali, apparecchi, toglierli dalla portata di mano o comunque chiuderli e così, per una persona anziana questi apparecchi devono essere a portata di mano, altrimenti prende uno sgabello per prenderli in altezza e rischia la caduta. Tanti come sempre gli argomenti affrontati da In Salute che potete rivedere stasera in Replica a partire dalle 23 e 30 sempre su questo canale. Torna domani pomeriggio su TV Prato, incontri a due voci, il ciclo di conferenze a cura della Libera Università di Promozione Culturale. Come il farmaco ha cambiato le nostre vite, questo è il titolo dell'incontro che sarà tenuto da Gabriele Ermini, dottore in chimica, a dialogo con la professoressa Cinzia Antonelli che condurrà la trasmissione. L'appuntamento è per domani alle ore 16 su questo canale. Bene, non ci sono altre notizie, l'informazione torna domani alle 13 e 45 con il Tg del giorno. Restate con noi tra poco, in diretta dal Duomo di Prato, l'incontro con il vescovo Giovanni in Ermini, con i cantori delle corali parrocchiali. Buona serata.